Sono contento di questo progetto della coalizione che è nato e progressivamente si è sviluppato grazie al contributo di organizzazioni politiche molto diverse tra di loro che si sono sedute e hanno voluto comunque cercare e trovare una serie di punti d'incontro. L'abbiamo già fatto con il manifesto che è stato presentato alla stampa già a tempo fa che consideriamo l'elemento cementante della coalizione. Ed è cementante perché ci parla di valori che saranno quelli che ci sorreggeranno al momento stesso in cui passeremo alla fase di governo locale se i paresini chiaramente vorranno riconfermare la fiducia al sindaco De Converti.